Roma, 8 luglio 1593. Orazio Gentileschi, un noto pittore toscano, diventa padre della sua primogenita Artemisia. Proprio nell'urbe Orazio cono bel giovane Eruento Caravaggio, che lo indirizzò lo studio del vero al naturalismo, incrementando così le sue commissioni. Ben presto, quando Artemisia aveva solo 12 anni, la madre Prudenzia morì, lasciando il padre da solo con sei figli a carico. Essendo la femmina più grande della famiglia, a lei toccarono le incombenze della gestione della casa e il ruolo di educatrice dei fratelli più piccoli. Sempre a casa Artemisia si appassionò al mestiere del padre, che fu il suo primo maestro, dimostrando un innato talento artistico. Seppur molto geloso della sua primogenita, Orazio era molto orgoglioso dei dipinti di Artemisia, che si dilettava in piccoli quadretti che avevano come soggetto delle semplici nature morte. Ricordiamo che al tempo le grandi opere di arte figurativa, i ritratti e le scene religiose potevano essere dipinte solo da uomini. La rappresentazione del corpo umano risultava molto sconveniente per le poche donne che si dedicavano alla pittura. Già a 16 anni Artemisia si faceva chiamare pittora, perché il termine pittrice non era stato ancora coniato. Non possedeva una vera e propria bottega, ma poteva esercitarsi a dipingere nella sua stanza. La sua prima opera di un certo rilievo, forse realizzata con l'aiuto del padre, è intitolata Susanna e vecchioni, datata 1610. Qui vediamo la giovane Susanna insidiata da due uomini anziani che la vogliono possedere e la stanno spiando mentre lei sta facendo il bagno. La ragazza accederà alle loro lusinghe pur di non essere ingiustamente accusata dai due bifolchi di avere una relazione con un giovane amante. L'ambientazione spoglia, le figure appaiono ravvicinate. Artemisia insiste sui due uomini che si avvicinano bramosi alla ragazza, mentre lei confusa e spaventata e girata di spalle compie una torsione del busto per allontanarli con le mani. La definizione del chiaroscuro, la plasticità dei corpi, il naturalismo delle figure, dimostrano la maturità artistica della giovane pittrice. Alcuni ipotizzano che il dipinto sia stato retrodatato e si riferisca al periodo più tormentato e buio di Artemisia, l'anno successivo. 9 maggio 1611. Artemisia è a casa con Tuzia, un'amica di famiglia più grande di lei che il padre li aveva affiancato e che viveva nella loro casa. A fare visita ad Artemisia c'è anche Agostino Tassi, un pittore amico e collaboratore del padre Orazio, che le impartiva lezioni di prospettiva. La ragazza aveva solo 17 anni e si sentiva a disagio alla presenza di quest'uomo, troppo pressante, troppo confidenziale. Lei non si fidava, ma Tuzia la convinse che era un onesto gentiluomo. Agostino entrò nella stanza di Artemisia, chiuse la porta chiave e si avvicinò a lei. La strinse brutalmente tra le sue braccia. La ragazza si difese, tentò di divincolarsi, lo ferì, ma questo non bastò a far desistere l'uomo che abusò di lei. Artemisia perse così la sua verginità. Distrutta dal dolore si confidò con il padre, il quale cercò un compromesso con il Tassi, il matrimonio riparatore. Al tempo lo stupratore veniva assolto da ogni sua colpa si accettava di sposare la donna che aveva violentato. Altrimenti lei, non più pura, sarebbe stata respinta da ogni pretendente perché considerata immeritevole. Nei mesi successivi Artemisia consentì ad avere altri rapporti sessuali con Agostino Tassi, che sparse la voce sulla immoralità della donna, colpevole a suo dire di avere molti amanti. D'altro canto l'uomo non aveva nessuna intenzione di sposare Artemisia. Orazio scoprì ben presto che il Tassi era già sposato e quindi, sfumata anche la falsa promessa del matrimonio, lo portò davanti al giudice. Da allora sono passati più di 400 anni, ma il matrimonio riparatore era contemplato nel codice penale all'articolo 544 fino al 1981, quando dopo una sentenza venne definitivamente abrogato, ma questo succedeva solo poco più di 40 anni fa. La povera Artemisia fu sottoposta a numerose mortificanti visite ginecologiche e costretta a confessare sotto tortura davanti al suo carnefice tutta la verità. Le legarono i pollici con delle corte che venivano strette fino a che le dita non si gonfiavano e perdevano sangue, ma la ragazza sopportò coraggiosamente anche questa ennesima umiliazione. Alla fine il giudice condannò Agostino Tassi a cinque anni di reclusione o all'esilio permanente da Roma. L'uomo scelse la seconda possibilità. In questo periodo, tra il 1611 e il 1612, Artemisia cercò in tutti i modi di trasferire nella sua arte del dolore e la rabbia che quotidianamente la tormentavano. Dipinse eroine bibliche e mitologiche, coraggiose e forti, che sconfiggevano il loro nemico come nel dipinto che ha per soggetto la decapitazione di Oloferne. Nel libro di Giuditta si narra che l'eroina biblica per salvare il popolo di Israele dall'assedio del generale Oloferne durante il regno di Nabucodonosor si finse a condiscendente con il nemico, accettando di banchettare nella sua tenda. Ma l'intento era quello di farlo ubriacare fino allo stordimento, per renderlo così inerme e poterlo poi decapitare. Con l'aiuto della sua ancella, mentre Oloferne semi-incosciente giaceva nel letto, prese la spada e con tutta la sua forza morzò il capo dell'uomo riportando poi la testa chiusa in un sacco al suo popolo. Questo soggetto era stato già interpretato da Caravaggio e forse Artemisia aveva visto il dipinto del grande maestro con il padre quando era bambina. Nel quadro di Caravaggio il soggetto principale Oloferne esanima al centro mentre la bellissima Giuditta arretra terrorizzata, si percepisce dalla smorfia del viso, mentre chiede a Dio simboleggiato dalla luce che proviene dall'alto a sinistra di darle la forza per sferrare il colpo prima che sia troppo tardi, perché Oloferne, seppur indebolito, sta tentando con il braccio destro di risollevarsi. L'ancella dei tratti rozzi e duri invece osserva sadicamente l'uomo e stringe tra le mani il sacco come se stringesse la testa di Oloferne. Nell'interpretazione di Artemisia la scena è svuotata completamente, appaiono solo il letto, Oloferne, Giuditta e l'ancella. L'eroina è il soggetto principale, la sua forza, la sua determinazione. Il viso è molto somigliante a quello di Artemisia, tanto quanto quello di Oloferne. Lo è di Agostino. E l'ancella al centro ha un ruolo attivo, tiene fermo l'uomo che in qualche modo reagisce e tenta di divincolarsi, forse una velata richiesta di aiuto da parte di Artemisia alla donna che avrebbe dovuto testimoniare a suo favore, non contro di lei, Tuzia. Orazio non smise di cercare una soluzione per salvare la reputazione della famiglia e si accordò con un giovane e modesto pittore che consentì dietro un compenso di denaro di sposare la figlia, per trasferirsi poi a Firenze. In Toscana finalmente Artemisia ritrova un po' di serenità. Fu introdotta alla corte del granduca Cosimo II dallo zio, di cui prese il nome per firmare le sue opere, Artemisia Loi, cercando così di scacciare i fantasmi legati alle vicende familiari. La fama della pittrice crebbe, entrò a far parte anche della prestigiosa Accademia Fiorentina, la prima donna a potersene vantare. La fragile ragazza era diventata una donna adulta e determinata. La voglia di emergere artisticamente fu per lei fondamentale, il suo riscatto, il suo obiettivo primario. Cosimo II, appassionato d'arte, l'ammirava e le commissionò numerosi dipinti, tra cui la versione del 1620 di Giuditta Eoloferne. Artemisia torna a reinterpretare lo stesso soggetto, ma l'autorevolezza della commissione e l'evoluzione tecnica indirizzata verso una maggiore cura dei particolari, una maggiore armonia, la portano un risultato meno drammatico della versione precedente, forse meno condizionato dalle vicissitudini personali. Qui Giuditta appare abbigliata da grandama di corte, porta un prezioso bracciale e un elegante vestito di broccato dorato. Si è tirata un po' sulle maniche per non sporcarsi l'abito, ma zampilli di sangue schizzano ovunque, verso di lei, verso l'ancella, che anche in questa versione collabora al delitto. Imbrattando il lenzuolo, ma anche il petto, la veste di Giuditta, che, senza alcuna esitazione, tiene fermo il nemico con la mano sinistra, stringendogli la barba, mentre con la destra sferra il colpo di spada. Il delitto si consume in una trasfera drammatica e coinvolgente, perfettamente definita da una pittrice ormai matura, che si destregge abilmente con i pennelli, ma senza più esserne così profondamente participe. Artemisia tornò a Roma nel 1620, anche forse per allontanarsi da un marito dissoluto e superficiale che le aveva donato sì quattro figli, ma anche una marea di debiti. Lì trovò suo padre e un cospicuo numero di appassionati d'arte italiane e stranieri che riconoscevano e ammiravano il suo talento artistico. La sua fama mise a tacere le malelingue che l'avevano perseguitata solo dieci anni prima. Artemisia poteva guardare a testa alta chi le aveva fatto del male e oggi la accoglieva con tutti gli onori. Com'è facile per la gente dimenticare e cambiare opinione. Ora era una donna libera, emancipata e di successo. Nel 1630 Artemisia si trasferì a Napoli e rirestò fino alla fine dei suoi giorni, a parte alcuni viaggi a Venezia e in Inghilterra per raggiungere suo padre, ormai vecchio, che nel frattempo era diventato pittore alla corte di Carlo I. Nell'ultimo periodo napoletano Artemisia riproduce temi a lei cari, che aveva già rappresentato in giovane età, 40 anni prima, come Susanne e Vecchioni. Da un confronto delle due tele si può notare la maturità della pittrice. Qui la scena si è fatta più ampia, aperta su un giardino fiorito che si lascia intuire tra le eleganti colonnine della balaustra e su un lontano paesaggio collinare. Un bacile posto ai piedi di Susanna dà modo alla pittrice di esibire nell'esecuzione dei manici e dei supporti a zampa di leone la sua abilità nel curare dettagli con minuzia quasi fiamminga, come nei dipinti di Rubens o di Van Dyck che aveva ammirato a Genova. Il quadro è dunque sotto molti profili più ricercato e più consono al gusto estetico classicheggiante che si va fermando verso la metà del Seicento. Poco sappiamo dell'ultima parte della vita artistica della Gentileschi. Si presume oggi che sia morto durante una devastante peste che colpì Napoli nel 1656, spazzando via un'intera generazione di grandi artisti. Ma è il nostro Agostino Tassi che fine fece? Dopo l'infamante accusa di stupro del 1612 scelse l'esilio, ma visto le sue influenti amicizie nel clero romano, si sa che dalla città eterna non si allontanò mai e che da discreto paesaggista e quadraturista si limitò a modeste commissioni private. Colui che con la prepoltenza volle sottomettere la fragile Artemisia fu poi sconfitto sul piano professionale dal talento e dalla sensibilità artistica della più grande pittrice del Seicento. Artemisia Gentileschi